Un centro storico del tutto pedonalizzato, niente strisce blu ma soltanto la possibilità di utilizzare il disco orario, soprattutto in prossimità delle attività commerciali. Il cosiddetto PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile del comune dell'Aquila, comincia a prender forma. Non solo parcheggio a raso, ma anche quattro importanti parcheggi interrati, più uno multipiano nel palazzo ex Impdap in via 20 Settembre. Un piano di mobilità che cambierà completamente il volto del centro storico, anche se per la delicatezza delle aree scelte per i parcheggi interrati, tutto il progetto dovrà essere sottoposto non soltanto al vaglio del Consiglio Comunale, ma anche condiviso con i cittadini e le associazioni di categoria. L'assessora alla mobilità, Carla Mannetti, afferma su un punto, il parcheggio interrato da 200 posti a San Bernardino dovrà partire entro l'anno. Intanto, sosta vietata via Verdi. È una proposta all'attenzione dell'Aggiunta di tutti quanti i consiglieri che sarà inserita nel PUMS. L'unico certo al 100% è il parcheggio interrato di San Bernardino, per il quale è già pronto il progetto esecutivo e si parterà. Poi in discussione sono Portaleoni, che non è proprio interrato, cioè un parcheggio che prevede anche dei piani sotterranei. Poi abbiamo il parcheggio di via 20 Settembre, di cui avevamo parlato ampiamente anche nel passato, e quindi sostanzialmente si è dato avvio allo scheletro, all'ossatura di quello che è il futuro piano parcheggi, che deve essere ancora scritto, disegnato, condiviso e partecipato sia con la cittadinanza sia con gli stakeholder. Grazie.